Hai riferimento alle polemiche sugli arbitri di qualche dirigente del Parma? No, polemiche io, sono lontano di polemiche, anche perché non... indipendentemente di come sono andate le cose, credo una buona fede, una buona fede del Parcione, una buona fede di la rete del lavoro, chiaramente non ritengo che il Parma sia la squadra così cattiva, da prendere 10 ore o 3 stagioni, da fine delle ultime 3 o 4 giornate in 10, non ritengo che siamo così cattivi, però le valutazioni che si devono aspettare, però dovremmo stare bene.